rlv.it le nostre frequenze i contatti le foto i nostri programmi i link più utili la tua radio sul web a colori www.rlv.it in tanti anni di radio ho incontrato effettivamente tanti artisti e lui lui spesso dice quelle cose che vorrei dire ma non so come dirle e lui ci riesce è per questo che io mi sono così affezionato a santo janni bentornato sulla radio colori ciao 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 grazie grazie è come dire donato di acqua sotto i ponti ne è passata da quel sanremo giovani 2015 che ci fece incontrare la la prima volta tante cose sono cambiate noi siamo cambiati quanto è importante prendersi un po di tempo per per capire per riflettere un po ma per chi fa canzoni secondo me è tutto nel senso che io dico sempre che per ogni canzone ci sono ore e ore di noia e di tempo che passa e che non ti rendi conto che che scorre di acqua come hai detto tu benissimo che passa sotto i ponti e poi tutto quel quell'anglomerato di cose che succedono o che non succedono a un certo punto diventando le canzoni quindi per chi prova a fare quello che faccio io è fondamentale siamo ancora un po all'inizio di questo 2023 donato a fare un pochino di bilancio su come sono andate le cose musicalmente parlando nel 2022 sono successe belle cose per te sì sono devo dire la verità sono due anni molto molto intensi pieni di belle soddisfazioni 2022 è stato un anno è stato un anno in cui ho pubblicato nonostante in paradiso che era dentro delle canzoni che erano già uscite l'anno prima che già l'anno prima avevano raccolto belle soddisfazioni ma devo dire che poi quest'anno qua 2022 appena passato è stato un anno veramente pieno di pieno di canzoni pieno di belli incontri ho avuto la fortuna di scrivere per il disco di ron come autore ho avuto veramente belle e grandi soddisfazioni però come come sempre sono rivolto un po più al futuro perché poi io penso che è che poi diventa ti viene l'ansia di dover superare l'anno precedente speriamo comunque bene anche quest'anno fa bene fa bene quando arrivano belle cose ma siamo qui perché vogliamo far sapere a tutti che c'è un nuovo progetto in piedi il primo singolo del 2023 si chiama calpestare che mi piace da morire mi piace da morire è fantastica questa canzone si appiccica da tutte le parti e non puoi fare a meno di cantarla cosa c'è dentro questo calpestare è una canzone che sono contento grazie che ti piaccia e sono contento che stia piacendo e questa cosa la sento e per me ovviamente una grande soddisfazione è una canzone che ho scritto in un momento particolare nel senso che era da poco finito il covid era la prima volta che avevo la possibilità di avere dei concerti di ritornare a fare quello che forse mi viene meglio e ho preso il covid io e a quel punto ho dovuto cancellare tutti quelli che erano qui quegli eventi che si stavano per sosseguire ma ho deciso di chiudermi in casa di fare i famosi giorni di isolamento e scrivere ogni giorno una canzone e pubblicarla sui social no quindi la scrivevo la mattina durante la giornata eccetera alle 19 tutti i giorni pubblicava una canzone e la prima bozza chiaramente perché poi non erano delle canzoni finite che ho pubblicato era questa calpestare e che poi ha fatto su percorsi che adesso è stata pubblicata prodotta e finita ed è una canzone in cui dentro c'è proprio quel concetto lì di doversi fermare obbligatoriamente fare un po un bilancio ciò che si è imparato no mi sono proprio chiesto ma quando è successo che ho capito come funziona il mondo no e da lì ho scritto questa canzone che ovviamente gioca anche un po su sui contrasti no sulle metafere su certezze che abbiamo che poi spesso si dimostrano non essere certezze ma bene così no ma va guarda riesci come tuo solito come tuo solito riesci proprio a a essere presente a dire quelle cose con leggerezza perché poi si dicono cose importanti anche usando la leggerezza e tant'è che sei fantastico quindi questa canzone è una hit per noi e siamo contenti che funzioni veramente tanto tanto bene e io sono convinto caro donato che le forze magnetiche funzionino benissimo perché come di solito accade le belle persone che attraggono le belle persone hai questa collaborazione con luca molla che è fantastica è vero sì 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 è veramente anche questa è una delle cose che è successo in questo periodo in questi anni e devo dire che è stata una fortuna ma me la sono un po cercata nel senso che io molla luca il suo nome ovviamente dall'anagrafe molla il suo nome d'arte l'ho l'ho contattato abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2021 e non ci lasciamo più fino ad oggi ma semplicemente perché poi quando quando si fanno canzoni secondo me è importante che chi ci metta le mani ha la tua stessa visione del mondo la tua stessa sensibilità e soprattutto abbia abbia anche un legame umano con te e io e lui siamo siamo due grandi amici poi lui è un ottimo musicista un bravissimo produttore anche un bravissimo autore per quanto riguarda il suo progetto musicale e anche questa calpestare è frutto della sua produzione in collaborazione con me per la parte di produzione e devo dire che come sempre io sono sempre molto contento del risultato finale noi siamo contenti del vostro risultato a Cipicchia è bello lavorare in team ma io vorrei fare i complimenti anche al tuo regista che riesce a far vedere le parole guarda che non è mica facile e Luca Cantavenera secondo me riesce a cogliere delle sfumature mica male quando c'è da produrre qualcosa è vero? sì sì lui è un altro mio amico cioè la cosa bella è che veramente quello che è il mio progetto musicale a 2021 ad oggi quindi nell'ultima fase è fatto di persone di amici che si incontrano e che fanno delle cose insieme per il gusto anche di condividere il proprio tempo Luca è un mio amico lo conosco da tantissimi anni è un ottimo professionista un bravissimo regista ma anche un creativo su tanti aspetti chiaramente sempre legati ad visivo e devo dire che con le mie canzoni a lui basta sentirle per avere idee che poi sono veramente molto molto semplici ma proprio per questo probabilmente molto efficaci e a mio avviso anche poetiche bello sì assolutamente poetiche hai ragione andiamo a vederlo anche il tuo video di Calpestare adesso poi ce l'ascoltiamo ti frulleranno sicuramente in testa tante idee per questo 2023 chissà chissà quante cose stai stai pensando ci puoi anticipare qualcosa ma sì nel senso che allora nel 2023 spero accadano cose molto belle alcune ovviamente non le posso dire perché anche per scaramanzia e beh certo siamo in radio Donato siamo in radio quindi puoi fare quegli scongiuri che van bene esatto potrei no vabbè al di là di queste cose qui che poi accadranno e che se accadranno sarò molto felice di comunicarle sicuramente è un anno in cui voglio mettere le basi per un nuovo disco quindi cominciare a pubblicare alcuni dei brani che ci sono già e terminare quelli che vanno terminati e poi onestamente continuare a pubblicare brano per brano ma semplicemente per un discorso molto semplice credo che oggi la musica fruisca molto velocemente va, fruisce noi tutti abbiamo poco tempo forse noto che le canzoni uscendo così hanno un loro piccolo mondo che si realizza nella sua totalità Calpestare per esempio è un brano che secondo me è uscito da pochi giorni ma già si sta facendo voler bene e quindi la vita sta entrando nel suo mondo e mi piacerebbe creare tanti piccoli mondi che poi chiaramente finiranno in un universo chiamiamolo così che sarà un disco e che sicuramente vedrà la luce nel 2023 e allora io mi prenoto quindi quando arriveranno dei nuovi mondi da condividere con noi per favore il tuo microfono è sempre aperto qui da noi, va bene? benissimo, io sono solo qui contento, anzi ti ringrazio molto e allora ce l'ascoltiamo Calpestare di Santo Ianni qui sulla Radio Colori io ti auguro tantissima buona musica ti seguiamo sui social e tante belle note per te ciao ciao, grazie mille, ciao rlv parole a colori